Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso i link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico, contrassegnate da questo indicatore. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento. Ognuno è libero di eseguire. Ognuno è libero di un'ignorante in un'ignorante in modo. A Flat Earth International Conference. Antartica runs around the edge in a rain. All the photographs reportedly taken from space are computer generated images or shot through the fisheye lens. Neil deGrasse Tyson is not welcome. Research Flat Earth.